... Ok, quindi se ti vuoi mettere una camicia per un attorno, dire ai tuoi genitori se è stato teatro, così... In altri posti si chiama teatro, ma in realtà sono... Dai, è iperpopolare e forse noi non abbiamo mai parlato, anzi forse abbiamo delle cose anche da chiedere a Dan, perché io non ne conosco neanche troppo bene il funzionamento Dan, buongiorno! Allora Dan, come venne di Milano, si vedi in Spagna, giusto? Esatto Ok, provo a riassumere io il messaggio per farti parlare il meno possibile perché si sente un po' male Dan sta frequentando una ragazza molto... Allora Dan, come venne! Sì, sì, sì.